Signore, siamo pronti ad iniziare. Quanti anni credete che abbia? Diecimila? Centomila? Signora Weyland... Sì. Avvio procedura di infiltrazione. No. Grazie a tutti. Per favore, qualcuno mi aiuti! Grazie a tutti. 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 Un'uccisione facile. Grazie a tutti. L'importante è che mi paghino. È molto buio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.